Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento con 09, il nostro programma per l'evoluzione dei centri di formazione professionale e il nostro sogno di realizzare dei licei della bellezza. Oggi ho anche il grande piacere e onore di avere in mia compagnia dei ragazzi, dei ragazzi in formazione, c'è con me Alessia che è in formazione estetica, quarto anno, c'è Mattia, acconciatura secondo anno e c'è Daniela, acconciatura, quarto anno. Questa è una meraviglia, questa immagine, perché sono gli ambasciatori dell'Accademia BBA di Paderno Ugnano che sono stati scelti fra i candidati che hanno desiderato accompagnarmi in questo incontro di questa mattina per condividere dalla loro viva voce l'esperienza che stiamo facendo, che abbiamo fatto e anche un po' il loro percorso di vita, le loro proiezioni di carriera. Come ben sapete l'oggetto del mio obiettivo Proud to be, l'oggetto principale che mi sta a cuore è lo sviluppo dei giovani nella formazione professionale, di conseguenza lo sviluppo, il supporto dei centri di formazione con questo programma che voglio rapidamente ricondividere insieme a voi e la giornata di oggi, la mattinata di oggi avrà, a differenza delle altre, una porzione di tempo un po' più ampia per dare spazio alla vostra voce, per dare spazio alle vostre eventuali domande, alle vostre considerazioni e quindi sarete voi che ci seguite in questo momento da remoto anche i coprotagonisti di questa mattinata. Quindi voglio ripartire insieme a voi a rianalizzare le varie tappe del progetto 09 che credo che molti di voi con l'aiuto del nostro Alberto Zambelli e con l'aiuto di Live Communication che vi ha mantenuto aggiornati su tutti gli sviluppi, molti di voi chiaramente le hanno già fatte proprie, però voglio darvi degli aggiornamenti e voglio insieme a voi anche fare un'ulteriore carrellata di quelli che sono i contenuti. Come ben sapete io, codiuvato da moltissimi ricercatori, moltissimi scienziati, ho analizzato in dettaglio sezionando realmente nei minimi particolari la vostra attività e il percorso, tutta la filiera del percorso dei ragazzi, dalla loro genesi adolescenziale, quindi dall'elementare e le medie che sono indipendentemente private e pubbliche ma uguali per tutti, quindi dal momento in cui c'è la scelta, l'orientamento ai 13 anni, al momento in cui loro si inseriscono nel mondo del lavoro, sia nell'alternanza, poi nei tirocini, nei rapprendistati, nella collaborazione fino a diventare eventualmente titolari saloni e addirittura li abbiamo seguiti fino alla pensione e post pensione, visto che il nostro gruppo esiste dal 1959 e quindi abbiamo un panel di analisi anche temporale molto molto ampio. Bene, avendo analizzato e sezionato tutti questi elementi che compongono il percorso professionale di un giovane dall'orientamento fino alla pensione, abbiamo analizzato che ci sono secondo noi moltissimi corti circuiti che andrebbero rianalizzati e andrebbero chiaramente messi all'interno di un tavolo di lavoro ed è quello che stiamo facendo e gestiti in maniera diversa da quelli che sono oggi. Quindi la nostra proposta è quella proprio di creare questo grande tavolo di lavoro, mettere al centro le tematiche che secondo noi devono essere ancora riaffrontate e risolte in modo diverso, proporre delle soluzioni e poi lasciare alla vostra professionalità e al vostro chiaramente volontà il fatto di applicarli, non applicarli, modellarli. Ma in ogni caso abbiamo la certezza matematica e chi mi conosce bene sa che io ragiono solo attraverso dati scientifici e con fondamenti numerici, spesso e quasi sempre in doppio cieco abbiamo la dimensione della realtà che sicuramente qualcosa non funziona. Noi siamo partiti e con questo chiedo anche una piccola aiuto ai ragazzi che ho qui perché il fatto di raccontare l'orientamento da qualcuno che lo ha vissuto molto molto recentemente e ha vissuto quello che noi pensiamo non sia giusto vivere è molto più eloquente che raccontarlo in via teorica. Quindi il primissimo punto, il punto zero è l'orientamento professionale. Tutti noi sappiamo che la formazione professionale soprattutto nell'ambito della bellezza non è considerata una scelta nobile anche se lo è e lo sappiamo tutti molto bene che lo è ma dagli orientatori o quelli che io chiamo i disorientatori delle 8.971 scuole medie d'Italia che ogni anno vedono circa 550.000 studenti nella terza media dover essere orientati, molti di questi circa 15.000 vengono disorientati verso le scuole professionali. Quindi volevo chiedere ai nostri ragazzi, magari iniziamo, visto che la paura di parlare in pubblico è una forte paura, allora facciamo i gentiluomini e cominciamo da Mattia che ci racconta magari com'è stata la sua esperienza di orientamento nella scuola media. Guarda la telecamera così ti... Ho scelto due anni fa che scuola fare in terza media e i miei professori mi hanno consigliato di fare una scuola professionale, sono uscito con il 6 e non è che mi abbia molto orientato, cioè prima pensavo molto vabbè la scuola che mi piace ci vado e mi hanno consigliato bene, però pensando c'è una persona che esce con il 9 o anche con l'8 non gli viene consigliata una scuola professionale, gli viene consigliata un liceo, cioè non gli viene detto vai a fare il parrucchiere, gli viene detto vai a fare l'avvocato, viene consigliata come una scuola di serie B rispetto a licei e altre cose. E invece io che faccio questa esperienza da due anni ho visto che ci sono molte materie che sono difficili, cioè si pensa che vieni qua a non studiare, invece bisogna studiare. Ci sono materie difficili come igiene, dermatologia, anatomia, che in molti licei non fanno neanche, non sanno neanche cosa sono, quindi non è una scuola di serie B. Il mio orientamento è stato negativo perché mi hanno comunque detto di fare una scuola professionale e all'inizio mi sono sentito bene perché ho detto vabbè io voglio fare il parrucchiere a quello che mi piace, però da quando facciamo gli incontri il giovedì col signor Negretti, ci ho pensato su molto e non è stata una scelta, è stata voluta sì, ma è stata comunque mandata anche dai professori perché se sarei uscito col 9 o con l'8 non mi avrebbero mai consigliato di fare questa scuola. Comunque ti sei sentito poi un po' svalorizzato? Sì, un po' mi sono sentito svalorizzato. E voi invece come era andata per voi? Io concordo con tutto quello che ha detto Mattia, io sono stata indirizzata verso un istituto tecnico ma la mia passione da quando sono piccola è fare l'estetista e l'ho portata avanti, comunque non ho ascoltato nessuno, ho fatto sempre di testa mia e infatti sono qua. E diceva che eri sprecata a fare l'estetista? Sì, infatti è una cosa assolutamente sbagliata che devono capire le persone che devono fare una scelta dopo la terza media che comunque questa scuola ha un valore e non è messa in serie B, tutto qua. E Daniela? Stessa cosa io che ovviamente anche se arrivo dalla Serbia ho comunque dovuto continuare le superiori e quindi anche io fin da piccola ho sempre fatto l'acconciatura e quindi sono stata sempre portata per fare l'acconciatura ovviamente per continuare la scuola soprattutto qui a Milano che sempre non è una scuola per scherzare né niente, ovviamente bisogna prenderlo per serio se si vuole ottenere qualcosa nel futuro. Però quando tu sei arrivata dalla Serbia sei andata dritta nella scuola di acconciatura o ti hanno suggerito perché non conoscevi la lingua di fare una scuola professionale? Allora, in questo caso a me hanno sempre sopportato di fare ciò che ho voluto e ovviamente sì mi hanno sempre detto sì vai a fare di là che questa scuola ha, secondo me tu ci arriverai lontano. Quindi tu avevi già in mente di farla invece? Esatto, sì. Si sta bene, non sei stata disorientata? Bene, bene, ottimo. Noi sulla base di questi elementi come ben sapete già la volta scorsa vi abbiamo proposto un'idea che abbiamo sperimentato e sta riscontrando un'ottima redemption nell'esperienza che stiamo facendo con la BBI è stata quella di mappare le scuole medie e quindi i comuni nei quali negli ultimi cinque anni sono pervenuti gli studenti presso l'Accademia. abbiamo scoperto appunto che da 38 comuni attorno a Paderno Dugnano arrivano gli studenti e da questi 38 comuni arrivano da esattamente 75 scuole medie. Quindi abbiamo preparato una lettera che credo che ognuno di voi e se qualcuno di voi non l'ha ancora ricevuta può fare una richiesta alla live che tiene i contatti fra di noi o direttamente a Alberto Zambelli che è già in contatto con Zambelli, questa lettera poi alla fine richiama appunto gli elementi che dicevano i ragazzi prima, cioè che la scuola e che il mondo della formazione professionale e soprattutto la bellezza non è una scuola di serie B e che la cosmetica e la bellezza offre delle grandissime opportunità. Quindi noi abbiamo spedito 75 lettere con 75 libri, ricordo alle scuole che i libri li offriamo noi, li regaliamo noi, quindi basta che voi chiediate, una volta che avete fatto la mappatura delle scuole medie, basta che voi chiediate il forma della lettera e il numero di libri che vi servono, quando voi li spedite, li spedite e andate in posta mettendo una busta con scritto sopra anche a mano piego di libro, piego di libro, quindi busta, lettera, libro, sopra la busta c'è scritto piego di libro, con 1,20 euro spedite il libro alle n scuole medie che voi deciderete. Questa attività è stata fatta e la stiamo portando avanti e la dirigenza dell'Accademia BBA di Panelluniano ha aperto, come da nostro suggerimento, uno sportello di orientamento permanente e ha, come vedremo adesso nella slide 3 e nella slide 4, ha anche tracciato un ipotetico programma annuale di affiancamento alle scuole medie, agli orientatori delle scuole medie per poter far sì che non sia uno spot l'invio del libro e l'invio della lettera, ma ci sia una presenza costante da parte di voi, in questo caso centro di formazione professionale, presso le varie scuole medie, lo potete fare, ripeto, con il responsabile dello sportello permanente, di orientamento permanente, ma anche con l'aiuto chiaramente di tutto il corpo docenti, affinché riusciamo a affiancare le scuole medie e gli orientatori specialmente a comprendere il vero valore salvifico della bellezza in generale per l'essere umano, quindi la vera grande opportunità di prosperità sia professionale che personale che hanno chiaramente coloro che lo scelgono. Ma è chiaro che gli dobbiamo anche rappresentare quanto sia anche la nostra formazione, una formazione intrisa di materie scientifiche, di materie umanistiche e quindi oltre al sapere c'è sicuramente come in tutta la formazione di base, tutto l'insegnamento del saper essere e noi abbiamo in più, in più, non in meno, in più da aggiungere il laboratorio con il saper fare, quindi è chiaramente una formazione molto completa e molto complessa e non sicuramente di serie B, soprattutto nei tempi moderni, nei tempi della proiezione dove anche la pandemia ha dimostrato quanto sia centrale nell'umanità il ruolo degli operatori e aggiungo quanto sia complesso un ruolo economico che prevede anche il contatto, il tocco con il cliente, quindi c'è una complessità interessante. Mi dicono che c'è una richiesta di intervento, se mi date la possibilità, magari vi segnate tutte le domande, mi date la possibilità di finire la presentazione e così poi c'è tutto uno spazio molto ampio lasciato alla vostra espressione in modo tale che non rischiamo di perdere i tempi, quindi l'Accademia di Frosinone che vuole intervenire, se così come loro tutti vi segnate le domande che volete fare, poi facciamo un intervento tutti insieme. Quindi sull'orientamento ci teniamo molto, dalla volta scorsa a questa nessuno ha fatto che io sappia richiesta dei libri e nessuno ci ha rappresentato di aver fatto una mappatura, io diciamo di questo da una parte sicuramente vi dico che da settembre in avanti la possibilità di accedere al nostro gruppo di lavoro sarà ristretta, avremo due gruppi di lavoro, uno diciamo più rappresentativo che vi presenterò nel prossimo meeting e un secondo gruppo di lavoro un po' più ampio che conterrà al massimo una quarantina di scuole professionali. Questo perché voglio essere scelto ma voglio anche scegliere, visto che è tutta un'attività molto impegnativa e onlus che sto facendo con veramente uno sforzo da un punto di vista fisico, psichico, economico, titanico, voglio essere scelto ma voglio anche scegliere. Quindi sceglierò di avere con me un gruppo di lavoro che non solo condividerà, potrà anche non condividere ma comunque mi darà riscontro di tutto lo sforzo che faccio sia positivamente che negativamente e se questo sforzo ha qualche valore lo vorrei vedere applicato in tempi molto brevi che sono i tempi magari non della burocrazia ma sono i tempi del mondo, i tempi del mercato che ormai viaggia alla velocità del pensiero, neanche più quella della luce e quindi purtroppo per poter fare un cambiamento c'è bisogno di azione, c'è bisogno di agire. Nella slide 7, sempre per quanto riguarda gli aspetti dell'orientamento abbiamo anche previsto il coinvolgimento delle istituzioni, anche in questo caso abbiamo creato un esempio concreto, abbiamo coinvolto e abbiamo individuato le istituzioni locali, abbiamo scritto una lettera, abbiamo fatto pervenire il libro e all'interno di questa lettera, la cosa più importante, abbiamo messo a disposizione in questo caso l'Accademia, i docenti e anche i ragazzi e abbiamo offerto circa una decina di attività anche queste onlus pro bonis che la scuola, quindi che è un ente diciamo al servizio pubblico può mettere a disposizione della cittadinanza e delle istituzioni per rafforzare chiaramente il ruolo delle istituzioni sul territorio e il rapporto fra la scuola di formazione e la cittadinanza. Anche qui stiamo facendo degli avanzamenti significativi, quindi sia per quanto riguarda il mondo degli orientatori che abbiamo visto prima verso le scuole medie, sia nella relazione con le istituzioni, nella storia dell'Accademia non c'erano mai state delle attività concrete fatte e noi abbiamo iniziato a farle, i primi risultati si stanno già cominciando a vedere e sicuramente da una, come posso dire, assonnata torpore nel quale c'erano affogate queste relazioni che poi portavano chiaramente delle situazioni anche di disagio, perché riceviamo dei ragazzi che non sono in profilo con quelli che speriamo, perché non abbiamo attenzione sufficiente da parte delle istituzioni, io ho semplicemente portato quello che è il piglio dell'impresa e quello che è il piglio dell'imprenditore che è l'andare verso, quindi lamentarsi serve a poco, bisogna agire, bisogna progettare e soprattutto bisogna fare. Come sempre ho detto, questo che è il nostro programma è quello di una rivoluzione gentile che abbia la voglia chiaramente di mettere di fronte agli operatori, all'opinione pubblica e alle istituzioni chiaramente delle possibilità di evoluzione di cambiamento. Nella slide 9, anche qui e qui mi faccio e poi le scorriamo a seguire, raccontiamo anche di come sia importante una struttura scolastica epigenetica, quindi noi abbiamo fatto fare un assessment molto puntuale a dei grandi esperti di architettura epigenetica, che è una rivoluzione nell'ambito della cultura architettonica, cioè andare a analizzare tutti quegli elementi che possono essere propedeutici a far sì che i docenti, i ragazzi trovino all'interno degli spazi dei sostegni, dei supporti al loro progetto di studi. Velocemente guardiamo quello che abbiamo fatto e quello che stiamo facendo e poi con l'aiuto dei ragazzi magari un breve commento, visto che vivono insieme a noi, insieme a me, questo cambiamento e evoluzione continua. Quindi vediamo le slide, abbiamo creato l'aula teatro, da questa settimana avremo due aule teatro, abbiamo anche, dopo aver fatto tutta la progettazione e tutte le rilevazioni insieme ai docenti che nell'aula teatro le performance dei ragazzi sia in termini di attenzione sia in termini di performance durante le verifiche sono decisamente aumentate, da questa settimana come vedete abbiamo spostato la LIM, quindi abbiamo preso proprio una decisione di far diventare l'aula teatro il format e quindi nell'aula teatro i ragazzi hanno questa disposizione ad anfiteatro all'isca di pesce, la LIM è stata riposizionata e le pareti, seppur ancora non in maniera definitiva, sono state, come vedete, sono state anche un po' personalizzate. Quello che avverrà già questa settimana inseriremo il totem armonici per accompagnare con le vibrazioni anche lo studio, la giornata dei ragazzi. Abbiamo la settimana scorsa cominciato a fare sperimentare ai docenti e alcuni ragazzi i lettini armonici con dei risultati sorprendenti. Come sapete abbiamo cominciato a fare anche le sequenze armoniche, lo vediamo nella pagina 15, 16, 17 e a seguire sequenze armoniche di fibonacci nei corridoi. Abbiamo fatto quindi slide 16, 17, abbiamo anche con la slide 18, 19, 20, abbiamo fatto anche delle evoluzioni nelle cabine dell'impresa formativa. Voi sapete che nell'Accademia BBA c'è, grazie al Signore, l'impresa formativa, quindi anche qui abbiamo fatto un restyling dei colori, aggiunto delle sequenze armoniche e già poi anche questo i ragazzi possono testimoniarlo perché alcuni di loro lavorano nell'alternanza, nell'impresa formativa e quindi abbiamo già visto anche da parte degli operatori e delle clienti un miglioramento dello stato di gradimento e di benessere. Abbiamo nella slide 22 posizionato anche il lettino armonico, qui vediamo l'architetto Bigogno che comincia a disposizione del lettino armonico, ci sarà poi un momento per parlarne in maniera più approfondita. Questa è una rivoluzione nelle terapie estetiche, però vedremo più avanti questo dettaglio. Viene dall'esperienza delle cule armoniche per neonati nati prematuri che abbiamo messo con estremo successo con la nostra Onlus Mami Voice, abbiamo messo e posizionato presso moltissimi centri di terapia intensiva neonatale degli spedali italiani e anche internazionali. Abbiamo cominciato a riprogettare anche gli ingressi dell'Accademia e anche dell'impresa formativa, non li abbiamo ancora realizzati, ma capirete la prossima settimana, il prossimo incontro perché non li abbiamo ancora realizzati, perché abbiamo in previsione chiaramente una grandissima novità. Poi stiamo finendo la realizzazione delle divise che abbiamo commissionato come design a degli esperti e abbiamo fatto realizzare da una casa di recupero di giovani mamme che hanno un po' perso la strada e che stanno recuperando un po' la loro identità e la loro dignità imparando vecchie arti come la sartoria e ci prepareranno con tanto amore e tanta competenza anche queste straordinarie divise alle quali associeremo i carzari ergonomici perché vi parlavo prima nel debutto vi ho parlato che abbiamo seguito l'evoluzione della categoria dall'adolescenza fino all'età pensionistica. Intendevo proprio dire che abbiamo rilevato che il 79% dei ultracinquantenni che hanno fatto questa professione e sale molto andando verso l'età pensionistica hanno problemi muscoloscheletrici gravi dovuti chiaramente, non vi devo insegnare niente perché seguite questa professione da sempre, dovuti chiaramente alla postura usurante che prevede l'operatore professionale della bellezza del benessere. Bene, grazie alla scienza e grazie al professor Pacini abbiamo brevettato dei calzari che possono prevenire e in molti casi addirittura curare queste deformazioni che poi creano queste gravissime patologie. Quindi anche questo è un elemento importante, l'ergonomia posturale del benessere epigenetico. Mi fermo un secondo proprio per chiedere ai ragazzi, partiamo in questo caso da Alessia, passando da Mattia fino a Daniela, un po' se vi siete resi conto che qualcosa sta cambiando all'interno della scuola, l'impresa formativa, che ci sono queste evoluzioni, quindi architetti, pittori, eccetera, c'è stata questa evoluzione della sala teatro, le sequenze armoniche in giro, le pareti che prendono da bianche, senza senso, prendono delle forme. Quindi quali sono le esperienze che avete fatto direttamente rispetto a queste evoluzioni? Beh, prima cosa, comunque abbiamo visto i cambiamenti, comunque le aule erano bianche e hanno preso comunque anche colore, c'è più vita, se si può dire così. E l'aula teatro? L'aula teatro è più come una famiglia, siamo tutti comunque vicini, c'è i banchi divisi e è una bella cosa. Io ho notato che siccome noi ci riuniamo sempre nell'aula teatro, innanzitutto ho l'impressione che ci sia un abbraccio da parte anche vostra nei confronti miei e anche mia nei vostri confronti. Poi trovo di solito, diciamo, quando sono con voi, voi occupate un'aula, una parte e l'altra parte è virtualmente occupata dai vostri colleghi che ci seguono da casa, quindi posizioniamo il computer, invece nel pomeriggio quando ci sono i docenti vengono occupate tutte e due le postazioni, ho proprio questa bellissima sensazione di abbraccio e poi non so voi perché veramente non ne abbiamo mai parlato, però ho anche questa sensazione di calma, di tranquillità, non so voi. Sì. Sì, sì, sì. Rispetto a quando invece andate poi nell'aula dove siete? Ma anche la concentrazione. L'aula teatro è disposta con la LIM in mezzo e poi le due aule, i due banchi. Invece come erano disposte prima, erano disposte praticamente c'era la cattedra, la LIM e poi tutta ad andare indietro, cioè non si riusciva ad ascoltare molto. Cioè tutti in fila come in tutta la formazione del mondo, c'è il primo banco, il secondo banco, chi vuole dormire sta all'ultimo banco, o no? Sì. Invece in questo caso qua, come avete progettato voi, è una cosa stupenda ovviamente, ci sentiamo molto più accolti come nelle altre aule, come sono molto semplici, come ogni scuola è diversa, invece noi come siamo artisti dobbiamo proprio sentirci accolti e proprio sentirsi al nostro agio. E poi è una cosa che con me siete sempre straordinari, però i vostri docenti mi dicono che anche con loro performate molto meglio, anche nelle verifiche avete in generale, non chiaramente solo voi, ma tutti i ragazzi che hanno fatto le verifiche nell'aula teatro, c'è una concentrazione molto più alta, una performance nelle verifiche molto migliore, molta meno gente che continua a chiedere di entrare e uscire, quindi una concentrazione e anche una serenità maggiore. Mi fa piacere, e poi vedrete quando migliorerà ancora perché dobbiamo ancora inserire l'aromaterapia, dobbiamo ancora inserire le vibrazioni, eccetera. E una delle cose che mi sta più a cuore è che non c'è più l'escluso dell'ultimo banco che magari o si vuole nascondere o viene escluso. L'altra cosa che adesso voglio vedere con la slide 29, poi chiederò anche su questa un vostro commento, è tutta anche una serie di elementi che abbiamo inserito all'interno della formazione e anche all'interno dei laboratori. Quindi abbiamo cominciato a mettere i disegni del professor Gezzi e a breve seguirà il suo libro. Abbiamo inserito il plastico che ha cambiato, poi me lo dicevate anche voi più volte, poi magari ve lo voglio sentire dire alla viva voce, però ha cambiato la vostra coinvolgimento, il vostro interesse rispetto alla bidimensionalità del libro o del poster che questa settimana sono arrivati altri manuali di tricologia della tira. Sì, sicuramente è più interessante vedere un plastico che guardare direttamente la foto sul libro. Anche comunque a lavoro, noi al Bibialab abbiamo proprio il mobiletto con questo sopra e è una cosa bella anche per i clienti che quando entrano comunque si interessano a vedere. Cioè lo usate nella consulenza? Sì, sì sì. Cioè lo fate vedere al cliente e spiegate al cliente la conformazione dell'epidermide o del pelo? Sì, sia nell'estetica sia che nell'acconciatura ovviamente come facciamo, noi lavoriamo anche sia sul pelo sia che la... Quindi nell'impresa formativa quando arrivano i clienti, quindi oltre che in classe lo utilizzate anche come elemento di consulenza. I clienti cosa ha? Com'è la loro reazione? Allora, si sentono più accolte pure loro perché si sentono proprio diciamo che ci prendiamo cura di loro e ovviamente vedono che loro noi studiamo e non è una cosa diciamo superficiale che noi andiamo proprio a studiare tutta la pelle, la dermatologia che ovviamente nelle altre scuole non è così diffusa. Invece noi che siamo una scuola professionale dobbiamo spiegare sia alle clienti che proprio si sentono molto più accolte. Quindi dovremmo dire a tutte le imprese che poi accolgono i ragazzi in alternanza che almeno dovrebbero inserire il plastico come... Sì sì, sarebbe una cosa bella. Perché se voi uscite dalla Bibialab e poi andate in un'impresa a fare alternanza vi troverete... Sì, è totalmente diverso. Anche l'approccio con i clienti è totalmente diverso. Questa settimana ho visto che avete fatto anche a proposito di sviluppo, avete fatto anche un'evoluzione sull'area retail. Ho visto la settimana scorsa o due settimane fa che avete nell'impresa formativa disposto molto meglio i prodotti e mi diceva il manager dell'impresa Alberto che le vendite dei prodotti sono impennate. Sì, sì sì. Questo lo possiamo confermare, sì ovviamente che noi ci lavoriamo lì. Ovviamente bisogna spiegare se una cliente proprio vede i nascosti prodotti dice che proprio quelli non sono alla massima qualità. Invece quando sono tutti disposti, proprio come in un magazzino, vedi tante cose, è più bello e dici cavolo questa cosa qua sono i prodotti di qualità. Ottimo, quindi avete messo i cartellini, i prezzi... Tutto ordinato, tutto più bello sia visivo che ovviamente nella vendita. Meraviglia, meraviglia. Poi avete inserito anche il test delle 100 tinte dove abbiamo cominciato a verificare se abbiamo daltonici. Sì, quindi abbiamo messo, non so se l'avete visto, ma comunque il test per verificare e chiaramente noi abbiamo scoperto che c'era diciamo anche delle situazioni di daltonismo. Bisogna dirlo, chi mi conosce sa che sono sempre molto schietto, molto diretto, avevamo anche delle situazioni di daltonismo nei docenti, quindi sicuramente questo non aiuta poi alla formazione e anche poi alla relazione, in questo caso di un'impresa formativa, con le clienti. Perché in teoria andrebbe fatto un assessment generale perché a volte magari la cliente vede un colore, il ragazzo vede un altro colore, il docente vede un altro colore. Quindi con la stessa naturalezza e trasparenza con la quale si parla della cliente con un plastico per capire come è strutturata l'epidermide o come è strutturato il pelo, bisognerebbe con la stessa schiettezza capire come è strutturata chiaramente la lettura del colore. A tal proposito vi ricordo che noi in questo percorso, così come nell'ambito del plastico o nell'ambito, siamo accompagnati da ricercatori scientifici del calibro del professor Rizzi, che rappresenta la massima esponenza scientifica mondiale del colore in Italia, quindi il gruppo del colore, ed è che in Italia è appoggiato presso il dipartimento di computer science dell'Università Statale di Milano. Quindi stiamo parlando di scienza con la S maiuscola e non fantascienza, tant'è che insieme al professor Rizzi abbiamo anche aggiunto questi strumenti che noi assolutamente non conoscevamo, strumenti con i quali abbiamo letto anche la situazione delle luci in BBA e in alcuni casi anche la situazione di come il monitor era calibrato nel momento in cui venivano chiaramente proiettate delle slide o delle attività che riguardavano il mondo del colore. Quindi abbiamo fatto un assessment scientifico molto profondo che vi consiglio di seguire, perché il colore per capelli è al primo posto nell'economia di un salone ed è anche al primo posto nell'interesse della donna, come sapete il cosmetico prolunga la giovinezza e non c'è cosmetico più potente di un colore che in meno di 30 minuti o in 35 minuti toglie anni, quindi chiaramente restituisce anni di giovinezza e voi ben sapete di cosa parlo, restituisce anni di giovinezza a chi lo indossa e quindi questo è un elemento di business e anche di fidelizzazione fra operatore e consumatore molto forte e quindi deve essere centrale la qualità con cui voi insegnate questa materia ai ragazzi che è una materia molto molto complessa, ma che una volta appresa chiaramente fa la differenza nel successo del ragazzo sia come collaboratore e poi come un domani titolare. Abbiamo inserito anche una tecnologia Unimix, ci tengo a precisare che tutte queste tecnologie che abbiamo inserito non sono delle nostre tecnologie autoctone ma sono dei brevetti che noi abbiamo in qualche modo grazie agli scienziati messi insieme e messi a disposizione delle scuole professionali affinché possano dotarsene per il bene della implementazione e del miglioramento della loro formazione e anche quelli ragazzi, con la speranza che poi ogni scuola professionale stimoli le imprese convenzionate che ospitano i ragazzi in alternanza, anche loro di fare una evoluzione e quindi la mia grande speranza è che poi questi ragazzi, cosa che nella BBA Lab stanno già facendo, possano essere dei portavoci all'interno delle imprese durante il loro periodo di alternanza di queste rivoluzioni e evoluzioni che sono state introdotte nella scuola professionale e quindi che anche gli stessi ragazzi vengano visti anche come degli ambasciatori di innovazione e venga la loro dignità innalzata e non vengano trattati come spesso mi raccontano o come dog sitter, babysitter oppure come colf delle pulizie ma che vengano chiaramente accompagnati nel loro percorso professionale ma io dico sempre ai ragazzi aiutati che il CELTA aiuta, cioè anche tu devi essere il primo a fare un'azione forte. Poi nella slide 35 parliamo dello step di avanzamento con i docenti, io ho creato un canale Telegram nel quale ho invitato tutti ad atterrare il canale Telegram della cosiddetta ecomanistica per potervi incontrare, per potervi conoscere, per potervi scambiare, abbiamo fatto delle pagine social, delle pagine Instagram, abbiamo soprattutto fatto per i docenti un investimento per le nostre proporzioni di svariate e svariate decine di miliardi di euro, tante decine in pochi mesi, che è stato il canale YouTube Professional Beauty Channel. Devo dire che non sono stato altrettanto soddisfatto della quantità di utilizzi che ho visto che questo canale è stato fatto, tant'è che entro settembre lo limiterò solamente a un accesso a chi dimostrerà di averne interesse, quindi la piattaforma rimarrà aperta a tutti ancora per un po' di tempo, ma poi chiuderò questa piattaforma e rilascerò le pasto di ingresso, sempre gratuite, perché è un investimento onlus che sto facendo con tantissimo sforzo mio e degli scienziati e degli operatori che mi seguono, chiaramente loro vengono giustamente remunerati perché il progetto onlus è il mio, ma io sto facendo un investimento titanico con il mio team e non ho visto il riscontro che mi aspettavo, io credo che i contenuti siano veramente il non plus ultra di quello che una formazione professionale potrebbe o dovrebbe ambire, ci sono 400 centri di formazione professionale in qualche modo in relazione con noi, ce ne sono un'ottantina che a turno ci seguono regolarmente, quindi ci sono circa 40 mila ragazzi e 5 mila docenti che dovrebbero avere accesso a questo patrimonio immenso che non è dato da me, ma è dato dal calibro, dalla levatura degli scienziati che abbiamo messo a disposizione di tutti. Ecco, è un grande orrore che io tante volte vedo dei professionisti che poi si indebitano per andare a fare dei corsi di aggiornamento con degli improbabili formatori che spesso sono solamente improvvisati senza certificazione, e quindi qua abbiamo il meglio del meglio della scienza e quindi il fatto che non ci sia stata una iscrizione massiva al canale, una frequentazione massiva al canale mi ha fatto veramente orrore, soprattutto per i ragazzi. Ecco, e sicuramente la possibilità che ho dato a tutti, voi avete circa 30 mila imprese convenzionate e quindi potete come centro di formazione regalare l'informazione che esiste, questo canale, lo potete fare attraverso i vostri ragazzi che fanno un ambasciatore, che vanno in alternanza, portano questa informazione, guardano invece di guardare il soffitto o di fare il doc sit, chiedono di poter guardare, possibilmente con i collaboratori, possibilmente anche con i titolari, nei momenti di vuoto, di guardare questi che sono degli spettacoli formativi. Ecco, credo che sia giusto che certi sforzi vengano perlomeno, diciamo, rispettati. Ecco, come ho detto, io per il 90% sono quello che, lo dico con grandissima chiarezza, ripeto, chi mi segue da tempo conosce il mio carattere, chi è venuto a trovarmi in azienda sa che io ho la mia bottiglia dell'acqua super trasparente, i miei tavoli trasparenti di cristallo, le sedie ce le ho trasparenti e quindi ho questa caratteristica di volere che la gente mi dica in faccia il suo pensiero e io dirlo in faccia. Bene, io credo che questo mondo abbia bisogno chiaramente di una grande cultura che l'alta formazione in qualche modo, non dico che rifiutava di darci, ma si avvicinava con una certa diffidenza. Quindi il mondo universitario, che è sempre un mondo comunque al servizio pubblico, non si è mai integrato con la formazione professionale. Bene, io ho portato questi due mondi a coesistere, a convivere, ma ho bisogno del vostro aiuto per farli continuare ad esistere, perché altrimenti se siete voi a resistere, poi a un certo punto è anche giusto che ci veniamo tacciati, chiaramente essere di serie B, essere di fronte a delle perle noi sputiamo. Ecco, quindi vi chiedo una riflessione e comunque darò da settembre in avanti solamente a alcuni la possibilità di accedere a questo e saranno quelli che veramente fanno qualcosa a favore dell'applicazione di questi saperi, che come vi ho detto non sono dei miei saperi. io ho messo solamente tanto sforzo e tanti investimenti per portare a tutti voi e a tutti noi dei saperi delle più grandi eminenze scientifiche. Quindi nella mia vita ho sponsorizzato oltre 460 dottorati di ricerca sullo sviluppo dell'umanità e sono quello che io metto a disposizione. insieme a questo canale YouTube cerchiamo ogni giovedì di fare delle lezioni di bellezza in diretta e anche lì ogni giovedì ho degli ospiti che possano dare un'angolazione di veduta e un contributo chiaramente importante di ispirazione. In un'ora non si riesce chiaramente a esaurire nessun tema in maniera approfondita, però sono gli spunti al gruppo docenti e anche ai ragazzi di riflessione, di pensiero e di applicazione chiaramente o di implementazione dei saperi. È stato fatto anche un blog che contiene, siamo ormai vicini a circa 50 articoli, voglio ricordarvi che nel canale YouTube Professional Beauty Channel abbiamo 64 pillole, 7 lezioni, 6 conferenze, 4 time mind, 4 interviste, 3 incontri con i CFP, 4 caffè del benessere. Quindi abbiamo ormai, ci avviciniamo alle 100 registrazioni declinate in tantissime proposte in modo da poter essere utili chiaramente al corpo docente, ai ragazzi e anche abbiamo pensato alle imprese per poter implementare gratuitamente, soprattutto in questi momenti di pandemia dove si può muoversi molto di meno, c'è stato anche il lockdown, c'è il coprifuoco e quant'altro, quindi ci sono tanti e tanti momenti per i quali c'è la possibilità chiaramente di poter studiare e sicuramente lo studio attraverso i video è quello dimostrato da un punto di vista psicopedagogico essere il più efficace. Dicevo prima che anche nel blog abbiamo ormai quasi 50 articoli tradotti in 10 lingue e quindi anche per tutta la vostra comunità di studenti e anche di imprese eventualmente convenzionate multiculturali, noi abbiamo sempre promosso un'idea di inclusività e l'abbiamo fatto, vi lascio immaginare lo sforzo delle traduzioni, lo sforzo di realizzazione in questo blog, non c'è nulla di narcisistico, autocelebrativo, sono 50 articoli che parlano della bellezza sotto varie angolazioni, sotto forma di interviste, di ricerche eccetera, quindi è tutto fruibile e dedicato all'incremento dei saperi. Abbiamo fatto una intensa attività di stampa, riceverete via mail la rassegna stampa aggiornata a questi, non so se dalla regia noi abbiamo la rassegna stampa, ma comunque pagina 42, adesso non ve la proietto la rassegna stampa, ma vi arriverà una rassegna stampa sfogliabile, ma se voi andate sul sito gianantonionegretti.com potete immediatamente trovare la rassegna stampa sfogliabile e vedrete quanti e quali autorevoli riviste stanno parlando e stanno facendo un tantam molto forte sulla cosmetico-manistica, che è diventata chiaramente il nostro libro e i nostri soprattutto contenuti, essendo riconosciuti ormai come contenuti altamente nobili e assolutamente pro-giovani e pro-umanità, abbiamo avuto l'attenzione, se la camera mi inquadra, abbiamo avuto l'attenzione di autorevoli riviste come El, come il Corriere della Sera, Io Donna e tanto altro, che ci hanno dato moltissima visibilità e moltissimo sostegno a questo grande percorso che stiamo facendo. Questo l'abbiamo avuto senza pagarli, quindi sicuramente abbiamo fatto delle attività di comunicazione sulla cosmetico-manistica facendo gli investimenti, ma come vedrete moltissimi sono gli articoli che abbiamo scoperto tramite il nostro ufficio stampa che sono stati pubblicati senza che noi assolutamente venissimo a saperlo prima. Il nostro progetto è stato intercettato da moltissimi giornalisti, è stato ritenuto come vedete oggi El, Io Donna eccetera, ritenuto degno di nota e quindi sicuramente anche tutti voi che deciderete di adottare la cosmetico-manistica o come libro di testo, ma soprattutto deve essere come filosofia di lavoro e di formazione, di insegnamento, sicuramente fruirete anche di questa notorietà che sta avendo questo progetto. Notorietà che diventerà ancora più forte a partire da stasera, slide 43, e da stasera saremo su Rai Premium in seconda serata, ospiti di Diego Dalla Palma nel programma uniche, quindi saranno 8 trasmissioni nelle quali Diego Dalla Palma intervisterà 8 donne speciali che sono Veronica Pivetti, Tosca, Ima Battaglia, Paola Saluzzi, Paola Perego, Mirta Pellegrino, Vittoria Schisano e Serena Bortone, in ognuna di queste trasmissioni, di queste puntate la Diego dedicherà una parte a me e alla cosmetico-manistica, quindi ci sarà una intervista intermezzo sulla cosmetico-manistica. Voi sapete che Diego Dalla Palma è stato anche l'autore volontario, anche qui, senza, e lo dico con estrema orgoglio, senza nessun tipo di emolumento economico, ma con una decisione forte e solida sua, ha voluto scrivere una prefazione meravigliosa e quindi ha voluto anche sostenerci sulla Rai, sul suo programma, che ripeto, andrà in onda a partire da questa sera per 8 puntate ogni mercoledì sera, stasera sarà la serata di Veronica Pivetti e poi sarà in replica su Rai Play per molto tempo. Saranno il 1 maggio e il 4 maggio sarà in replica su Rai Play e invece stasera su canale 25 Rai Premium, intorno alle 23 e 15 circa saremo in trasmissione. Nella slide 45, c'è la 44 ma ne abbiamo già parlato, nella 45 c'è anche tutta la parte della pagina Facebook della Cosmetica Umanistica, il gruppo Facebook della Cosmetica Umanistica e anche le pagine social, nelle quali cerchiamo di darvi tutto il nostro supporto. Sicuramente a oggi sia su Telegram, sia su Facebook, sia su Instagram, sia sul canale Professional Beauty Channel YouTube, sia sul blog gianantonionegretti.com. Francamente non abbiamo visto, non abbiamo sentito più di tanto la vostra partecipazione e il vostro calore, di questo davvero me ne dispiaccio perché anche chi avesse opinioni diverse, io credo che se hai un'opinione simile lasciare come sul blog è possibile fare, lasciare una recensione positiva è di aiuto alla divulgazione di questo progetto, condividere Instagram, condividere Facebook, condividere Telegram è di aiuto a questo progetto, ma anche lasciare una recensione negativa per me è di aiuto perché io non devo vincere nessuna medaglia, non devo convincere nessuno, questo è un viaggio che ho deciso di fare guardando loro negli occhi e lo faccio con tutto il mio cuore, per me loro sono la più grande ricompensa, il loro sorriso, il loro apprezzamento, la loro stima, il loro calore sono la più grande ricompensa che io posso avere e non cerco nient'altro. Sicuramente arrivo a loro attraverso di voi e posso aiutare loro se tutti voi vi mettete dalla parte di chi vuole, sicuramente già lo fate, ma vuole farlo con maggiore consapevolezza, con maggiore energia, con il supporto della scienza e soprattutto mettendo in ordine una filiera molto travagliata e molto lontana per cui gli orientatori non conoscono i formatori delle scuole, non conoscono in realtà i numeri della cosmetica, i tutor non seguono diligentemente i ragazzi nel loro percorso formativo e ai tutor è affidata un'altissima percentuale della formazione di questi ragazzi in alternanza e non c'è dialogo fra i tutor e i formatori delle scuole, anzi si creano delle fratture nell'orientamento, nella relazione con i tutor, mi preme dirvi anche che ho potuto riscontrare, adesso sarà una delle cose che commenteremo insieme ai ragazzi, che quando io ho portato i ragazzi a fare dei ragionamenti su come utilizzare i loro saperi, parliamo di ragazzi anche di quarta, per la loro vita professionale e chiaramente ci siamo messi a usare la matematica, a fare dei numeri, a fare dei conti, a fare delle proiezioni, sicuramente li ho trovati e lo dico con grande affetto e grande amore ma perché loro stessi lo ammettono candidamente, molto impreparati nel riuscire a prendere il sapere e trasformarlo nella realtà e quando l'abbiamo fatto chiaramente i loro scenari idealizzati sono estremamente cambiati. Quindi vi chiedo con forza di dimostrarmi in maniera nitida il vostro apprezzamento o anche la vostra contrarietà a certe cose che io credo che con educazione, con civiltà si possano confrontare ogni tema e anche da posizioni estremamente contrapposte se la finalità è una finalità del bene ed è una finalità senza retropensieri e senza soprattutto seconde intenzioni. A questo punto passo alla slide 48 e parliamo dei miei ospiti, parliamo anche dei miei ospiti sono anche in rappresentanza, io ho visto prima e vedo il monitor che vedo, vedo alcuni di voi sfumati ma vedo anche dei ragazzi in fondo. Faccio un'eccezione perché mi dicono dalla regia che Gimena Porzio chiede di intervenire perché poi ha un impegno quindi se mi consentite faccio una breve interruzione lasciamo un attimo la parola a Gimena che interviene e poi continuiamo con le ultime siamo quasi alla fine del percorso di questa maratona di rivisitazione del protocollo e poi il tempo è tutto per voi e per i ragazzi. Gimena non so se mi sente, se la regia mi aiuta a farla intervenire. I miei complimenti perché finalmente c'è qualcuno che fa un pochino di strada un pochino di informazione riguardo questo settore sia estetico che acconciatura io sono estetista e vengo da un percorso un po' più lungo perché ho fatto i miei anni di studi sono insegnante di educazione fisica in primis, poi mi sono avvicinata al mondo dell'estetica ho seguito corsi di estetica in tecniche naturali, ho fatto tre anni di medicina iurveda e studio psicosomatica. Attualmente lavoro nel centro formazione professionale di Cassino e sono a contatto appunto con questa realtà che ritengo sia una realtà splendida ma poco valorizzata anche io nel mio centro ospito ragazze che fanno stage e mi ritengo, insomma ho voluto intervenire proprio perché volevo un attimino dire la mia riguardo appunto la motivazione per cui i ragazzi sono sottovalutati in questo settore e volevo rispondere in primis al ragazzo che diceva che appunto nella sua scelta si è sentito un pochino diciamo sottovalutato. Ritengo che è una scuola che viene offerta nell'informazione quindi nel momento in cui loro fanno un orientamento spesso viene sottovalutata proprio la consapevolezza di essere studenti, studenti classici perché generalmente si propone una scuola dove in realtà non c'è la continuità dello studio classico che è quello attraverso i libri. Il fatto di avere dei libri facoltativi lo ritengo dannoso quindi sostanzialmente i ragazzi devono avere una continuità anche attraverso i libri in modo obbligatorio. Ovviamente si propone una scuola con un percorso triennale o di quattro anni indubbiamente possono proseguire con un diploma e la ragione per cui molti genitori non iscrivono i ragazzi in questi settori è proprio perché ritengono di sottovalutare i propri figli quindi non facendoli fare un percorso con un diploma finito e quindi questo secondo me è la ragione su cui bisogna cambiare questa cosa. Volere un liceo della bellezza sarebbe un sogno perché i ragazzi che studiano anatomia fisiologia studiano secondo me devono inserire proprio elementi di psicologia io sono a contatto con persone ma io faccio anche chantala quindi massaggio neonatale noi veramente abbracciamo diverse diciamo diverse realtà e siamo a contatto con un organo che è la pelle un organo che comunica con il cervello e quindi dobbiamo essere preparati e questa preparazione non si riesce ad ottenere proprio perché non si ha la consapevolezza dell'importanza dello studio di materie che va appunto affrontata attraverso la teoria e poi la pratica e comunque contemporaneamente però vedo che si comunica soprattutto verso diciamo ai ragazzi dicendogli che appunto il libro è una facoltà che diciamo chi non ha voglia di studiare va ad imparare un mestiere e questa è la comunicazione più sbagliata a mio avviso quindi va cambiato questo tipo di comunicazione noi speriamo che grazie grazie gimena noi speriamo che chiaramente questo paradigma venga venga e stiamo lavorando per quello venga venga mutato sogniamo questo liceo della bellezza siamo certi che qualcosa si è già mosso dall'insediamento di draghi una un piccolo io sono per chi mi conosce a politico a partitico alfa privativo su tutto ma sono molto attento forse anche per per l'età che ho raggiunto chiaramente al futuro di tutti i giovani per cui li vedo tutti come se fossero dei figli e quindi cerco di essendo stato fortunato nella mia vita personale e carriera professionale cerco di chiaramente restituire qualcosa a chi deve ancora costruire il mondo e che del futuro e che quindi è il 20 per cento dico sempre della della popolazione ma è il 100 per cento della della nostra del nostro futuro e che chiaramente vivendoci chiaramente finché non raggiungono una maturità personale sono ancora molto fragili ecco e di conseguenza hanno bisogno di essere sostenuti e non disorientati o combattuti quindi grazie per per il contributo e auspicchiamo che insieme riusciremo perché tutti insieme veramente è solo insieme che si riesce a ottenere del dei grandi risultati ecco per quello io dicevo prima voglio essere scelto voglio scegliere anche con chi con chi camminare perché io un po' perché lo sono di natura un po' perché sono vengo da una città che è conosciuta per per una città del fare del fare tanto fare bene e fare presto e quindi ho poca 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 familiarità con il con il rimando con il perché anche non ho più vent'anni e di conseguenza vorrei dare ai miei occhi la gioia di vedere ancora in questa vita qualcosa che è veramente si è trasformato e spero di esserci il giorno in cui lo stato inaugurerà grazie alla forza anche di tutti noi e al movimento che che creeremo insieme inaugurerà il primo liceo della bellezza ecco adesso con la slide 48 voglio commentare grazie con la slide 48 voglio commentare lo step di avanzamento legato agli studenti chiaramente anche per gli studenti c'è tutto quello che abbiamo visto nelle slide precedenti offerto ai docenti è stato offerto ai docenti per gli studenti quindi i vari canali blog gli studenti avrebbero il diritto di essere accompagnati dai docenti nella conoscenza nella frequentazione e anche nell'approvvigionarsi di tutto questo sapere che noi mettiamo a disposizione a lato di tutto il sapere straordinario che voi dirigenti e docenti mettete a disposizione ogni giorno nelle vostre chiaramente lezioni abbiamo creato anche per loro un canale telegram proud to be perché anche gli studenti d'italia dicevo prima io vedo delle classi nella 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 nello schermo quindi saluto i ragazzi che ci seguono vi faccio vi do un abbraccio vi faccio un incoraggiamento per un complimenti per la scelta che avete fatto e voglio incoraggiarvi nel seguirla con rispetto per il mondo della cosmetica con rispetto per voi stessi e con grande ammirazione e attenzione per i vostri docenti per le vostre famiglie che vi stanno accompagnando in questo percorso formativo e di sviluppo personale e per voi abbiamo creato un canale telegram proud to be abbiamo fatto telegram e non whatsapp che sarebbe più diffuso ma perché whatsapp contiene fino a un massimo di 200 ospiti mentre telegram 200 mila quindi non l'abbiamo fatto per preferenze particolari se non per la capacità di contenitiva che loro hanno e a voi abbiamo rivolto anche per voi il professional beauty channel il blog giannattoniagretti.com le pagine facebook proud to be le pagine instagram proud to be alle quali io spero che con l'aiuto dei vostri docenti voi atterrerete bene abbiamo anche per tutti voi creato questo il appuntamento del giovedì per chi ci segue visto che è in diretta streaming le lezioni bellezza ma abbiamo fatto anche una cosa un po particolare sperimentale perché io dico prima di poter parlare devo conoscere devo sapere quindi grazie a una rappresentanza di docente che di allievi di studenti che abbiamo chiamato ambasciatori io tutti i giovedì mattina spendo due ore con i ragazzi perché nessuno poi mi possa dire è vero che una rondine non fa primavera ma nessuno mi possa dire dovresti provarci tu andare in classe con i ragazzi bene ormai sono tanti mesi che ogni giovedì sto in classe con loro e e quindi voglio farvi raccontare un po da loro quello che facciamo insieme per me è stata un'esperienza straordinaria ho ritrovato la straordinarietà che avevo già incontrato nella nel mio peregrinare in tante scuole dove sono stato e magari qualcuno di voi mi ha accolto anche dove sono stato in classe in molte delle vostre accademie scuole professionali insieme ai ragazzi e ho sempre trovato dei talenti e mai degli scarti come invece si vuole far credere chiaramente ho sempre trovato anche molta insicurezza questo è dovuto al fatto che due fatti uno è antropologico che si darebbe la maggiore età a 13 anni o a 16 anni se la sicurezza si raggiungesse prima della 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 maturità della maggiore età di 18 anni e sicuramente a livello inconscio oltre che conscio il disvalore che viene attribuito alle scuole professionali e quindi al di conseguenza il disorientamento che viene dato agli studenti come studenti di serie b l'etichetta di studenti di serie b se non lo registra il conscio lo registra chiaramente il subconscio e quindi questa forma di di insicurezza poi chiaramente permane e pervade quindi ma abbiamo fatto degli esercizi che richiedevano una partecipazione cognitiva e di conoscenze di competenze sicuramente non seconda a nessun liceo e ho trovato i ragazzi assolutamente preparati attenti partecipativi e assolutamente anche molto come posso dire coinvolti ecco che è una delle delle cose che viene poi in qualche modo etichettata anche come disinteresse allo studio distrazioni eccetera eccetera quindi farei più che altro una una sottolineatura al fatto che il il dovere un attimino rimaneggiare non tanto i programmi formativi ma la declinazione dei programmi formativi verso una un utilizzo più concreto e più reale quindi perché studiamo matematica e poi abbiamo scoperto facendo gli esercizi matematica che era molto importante perché studiamo la dermatica e poi l'abbiamo portata nella consulenza con la cliente eccetera eccetera quindi vorrevo che partendo sempre da Alessia magari ci raccontate un po' quello che è l'esperienza del giovedì e quello perché tante volte magari non abbiamo mai parlato quindi un'altra delle cose che voglio sottolineare questa nostra diretta con i ragazzi non ha niente di pre ordinato o preparato tant'è che poi potrete fare anche voi da remoto le domande che desidererete proprio perché voglio che i ragazzi si esprimano nella loro piena libertà e nella loro piena identità quindi Alessia raccontaci un po' l'esperienza che facciamo il giovedì mattina insieme allora a me mi ha aiutato a crescere a capire di più comunque sul mio lavoro e mi è servito tanto cioè sono cresciuta in tanti aspetti e è stata una mia esperienza e ne sono felice di aver passato questi giovedì con lei in compagnia e niente grazie Mattia io concordo tutto quello che ha detto Alessia e è stata comunque una fortuna fare questi giovedì con lei ma in concreto che cosa ti ha dato in concreto questa esperienza? sicuramente ho capito di più sul mondo del lavoro su non solo il mondo del lavoro tipo come ha detto lei la matematica io prima pensavo che vabbè cosa serve fare il parrucchiere e la matematica invece serve per molti calcoli come abbiamo fatto di calcoli o no? tanti o no? sì eh? Daniela sì allora lei c'ha ha aiutato molto a ragionare perché nessun altro anche la comunicazione che aiuta molto anche nel nostro lavoro e nel mondo esteriore eccetera quindi io sono molto fiera che ci ha fatto anche conoscere tanti personaggi anche Diego della Palma eccetera come anche Michele Caruso che è un parrucchiere sono molto fiera anche di conoscere altre persone perché conoscendoci aiuta anche a motivarci di più quindi anche un'esperienza nuova e non solita diciamo ottimo ok siamo quasi a scadere del tempo che mi ero dato e quindi adesso ancora abbiamo cinque minuti per finire le ultime slide e poi la parola va a voi la slide nella slide c'è una slide che manca volutamente perché c'è un'attività l'attività 5 che è del programma che è dedicata alle famiglie sulle quali non abbiamo ancora agito lo faremo nelle prossime settimane invece da slide 54 ho diciamo cominciato un affiancamento già dal primo di marzo in questo caso alla scuola BBA per due attività sulle aziende da convenzionare e convenzionate un'attività nella quale abbiamo incontrato i tutor aziendali abbiamo chiaramente cominciato un avvicinamento e un allineamento sul progetto di continuità educativa e quindi ho dimostrato che bisogna parlare con le aziende e poi abbiamo iniziato da questa settimana la mappatura puntuale di tutte le 1651 attività professionali che potrebbero accogliere i nostri ragazzi attualmente ne abbiamo convenzionate con l'Accademia BBA 220 che sono quelle che ci servono per coinvolgere i ragazzi ma siccome io soffro l'idea di avere un rapporto sempre di sudditanza quindi di essere proni davanti a queste aziende che molto spesso non danno la continuità formativa che noi cerchiamo e questo in primis può essere anche colpa nostra che magari non siamo stati abbastanza attivi a andare a trovare, a dialogare a farli venire a conoscere la scuola e i programmi formativi quindi abbiamo iniziato anche una mappatura per verificare chi sul territorio è molto più predisposto di altri magari a seguire i ragazzi abbiamo nella slide 55 anche fatto un'attività di coinvolgimento degli ex studenti fra l'altro abbiamo coinvolto uno degli ex studenti come responsabile dell'area acconciatura dell'impresa formativa quindi c'è tutto un patrimonio enorme di ex studenti che può essere messo a valore per voi scuole professionali poi pian piano vi spiegherò come abbiamo chiaramente dato seguito con le istituzioni a quelle proposte che abbiamo fatto di creare dei servizi per la comunità quindi tutta la cittadinanza che potrà avvalersi delle consulenze gratuita dei nostri ragazzi, dei nostri docenti e come abbiamo scritto nella lettera alle istituzioni e come forse vi ho detto l'altra volta abbiamo fatto anche nella slide 58 e ultima abbiamo fatto venire anche in Accademia altre aziende quindi non solamente il nostro gruppo ma abbiamo invitato Estelode, abbiamo invitato la casa di edizione EU abbiamo invitato Capello Point, abbiamo invitato delle aziende che sono venute a conoscere ricordiamo che Estelode è il terzo gruppo più importante nel mondo nel mondo del beauty e il primo nel mondo del lusso quindi anche loro come i grandi scienziati, ricercatori universitari non siamo andati noi da loro ma li abbiamo invitati a casa a conoscerci, a progettare insieme a loro chiaramente dei progetti di collaborazione e di sinergia quindi abbiamo veramente fatto tanto adesso lascio la parola a voi poi farò io un ultimo epilogo di conclusione quando ci avvicineremo al tempo lascio la parola a Giovanna e Roberta Coppola dell'Agenzia Formazione Frosinone e poi prenotatevi che poi la regia mi dà l'indicazione e man mano vi do la parola ringrazio per tutte queste vostre informazioni io pure insieme ai ragazzi e ai docenti sto imparando tantissimo dalle vostre comunicazioni dalle vostre conferenze appunto volevo dire che io l'ho accennato già un po' nell'email che ho risposto al questionario mi piacerebbe partecipare di più però attivarmi proprio concretamente di più mi dispiace quando lei dice che c'è stata poca partecipazione ma purtroppo i tempi sono sempre pochi soprattutto perché noi abbiamo poche risorse proprio umane oltre che economiche e quindi questo lavoro si può fare se collaboriamo in tanti ma specialmente i nostri docenti qui a Cassino sono a tempo cioè non sono neanche a tempo determinato io non so le altre realtà noi abbiamo i docenti che sono a prestazioni quindi loro vengono per l'ora assegnata e scappano via tu poi li devi coinvolgere e quando li coinvolgi poi logicamente ti danno il tempo a disposizione abbiamo fatto tanti eventi negli anni precedenti chiamando anche gli ex allievi però quest'anno della pandemia è stato sospeso un po' tutto però io sto cercando di fare di prendere spunto da quello che è il vostro programma e io l'ho portato qui nel centro di Cassino proprio ieri è venuto il sindaco il sindaco e l'assessore della pubblica istruzione per fare delle cose che erano programmate qui con la nostra scuola e ho colto subito l'occasione per informare di questo progetto che stiamo facendo con voi gli ho consegnato anche il libro perché li voglio investire li voglio proprio tirare in ballo in questo progetto concretamente e quindi il sindaco è stato molto consenziente in questa cosa si è messo a disposizione perché ho detto che dobbiamo elaborare questo nostro progetto io ho cercato di portare qui nella nostra scuola quello che lei, signor Gian Antonio sta portando avanti nelle sue conferenze subito ho cercato di prendere un gruppo di docenti e poi di studenti per tirare fuori una rassegna stampa diciamo così ma non è una rassegna stampa di tirare fuori un loro pensiero da questo che è le conferenze non deve essere solamente un motivo per lasciare la classe o per lasciare la didattica a distanza e chi se ne importa poi abbiamo fatto altro io invece li ho messi proprio a lavorare quindi stiamo portando a termine stiamo portando a termine quello che diciamo poi gli argomenti sono tantissimi ho cercato di fare un riassunto delle varie tappe e quindi mi è piaciuto come dicevo l'altra volta la scuola degli scarti ed altro quindi ogni ragazzo ha scelto un argomento e ha elaborato un suo pensiero e quindi io cercherò poi di fare alla fine come avete fatto voi la rassegna stampa dei giornali io farò la rassegna stampa proprio stamattina l'ho anticipato ai ragazzi voglio fare questo book ho detto facciamo questo book del percorso che abbiamo fatto con il progetto in più con quelli più grandi sto cercando di fare delle interviste per andare nelle aziende in modo particolare quelle aziende che dove gli allievi sono andate a lavorare ma poi hanno aperto un'attività per conto proprio quindi alla faccia del centro degli scarti poi io ci tengo proprio lo sottolineo questa cosa poi i ragazzi riescono non solo a trovare lavoro ma soprattutto ad aprire un'attività per conto proprio e ieri questo ho raccontato al sindaco e chiudo per dare spazio pure agli altri questo ho raccontato al sindaco qui anni fa è arrivata una ragazza con il sostegno dalle scuole medie addirittura l'insegnante di sostegno si è messo di traverso alla famiglia per non farla arrivare qui diceva quella non è una scuola per te non è una scuola data a te io ho dovuto convocare l'insegnante di sostegno qui un pomeriggio insieme alla famiglia per informare sul nostro percorso perché non lo sanno l'assessore del nostro comune qui di Cassino un insegnante ha scoperto dei nostri centri di formazione quando mi ha incontrato durante l'orientamento altrimenti non conosceva neanche lei da insegnante e così ho dovuto convocare questo insegnante di sostegno per non per non mettere i bastoni alla famiglia che voleva far segnare la ragazza nella nostra scuola la ragazza ha fatto non solo il terzo ha fatto anche il quarto che forse all'inizio non voleva fare poi io proprio perché lei tendeva a lasciare perché magari aveva questa particolarità proprio grazie a me l'ho portata anche al quarto ma la cosa bella che io ho detto a questa ragazza e già l'ho interpellata la cosa bella che questa ragazza quest'anno sta aprendo un'attività insieme allo zio che pure lo zio sta in questo settore apriranno un'attività a settembre nella zona di Minturno Scauri e ho detto l'ho chiamata la ragazza ho detto mi piacerebbe fare un'intervista non solo a te ma devo chiamare soprattutto l'insegnante della scuola media che non ti voleva far venire in questa scuola quindi io sto prendendo spunto e sto cercando eh di portare avanti un nostro piccolo progetto seguo poco i social perché sono poco social però gli spunti li prendo visto che voi avete messo le cose per iscritto le vostre le vostre conferenze le ho chieste io che me le mandate così le faccio vedere pure eh i ragazzi del quarto e la mappatura lo sto facendo con i ragazzi del la mappatura delle aziende lo sto facendo con i ragazzi del primo perché da noi non vanno a fare di lucino fuori il primo anno ma vanno dal secondo e soprattutto lo voglio fare con i ragazzi del terzo che l'anno prossimo devono fare un'alternanza di circa 500 ore con il quarto quindi sto cercando di attivarmi nel nel mio piccolo grazie Giovanna sono interventi come il suo che danno poi sono l'infa vitale per per diciamo continuare a battermi e la voglia di battere voglio solo sottolineare una cosa eh anch'io faccio impresa eh e ho diciamo un'impresa molto complessa perché eh mi occupo dalla ricerca e sviluppo alla produzione alla distribuzione in Italia e in 130 paesi sono papà di due bambini piccoli eh quindi qua 10 e 13 anni e eh sono anch'io vivo nella città eh che insieme a Bergamo Brescia e Bergamo sono state le città più martoriate dalla pandemia quindi vi lascio immaginare eh com'è la mia vita e la mia giornata quindi un'impresa che deve lottare contro la pandemia una città che lotta contro la pandemia un papà e eppure non ho mai e i ragazzi me l'hanno diciamo come posso dire sottolineato non ho mai arretrato un centimetro e non ho mai mollato nulla degli impegni che ho fatto quindi siccome non sono superman sono una persona normalissima chiaramente dormo di meno eh lavoro di più eh e faccio quindi sfrutto questa anche questa occasione del del lockdown per essere ancora più attivo e proattivo nelle mete che eh mi sono proposto ecco quindi io credo che se vuoi puoi questo io me l'ha dimostrato mio padre nella in tutta la sua vita che è partito non da da zero da 300 piani sotto zero ed è arrivato a costruire qualcosa per sé per la famiglia eh io credo che eh se c'è una meta chiara precisa e c'è la volontà eh tutto si può fare ecco per ottenere i risultati straordinari bisogna mettere impegno straordinario questo voglio dire con l'impegno ordinario non si possono ottenere risultati straordinari soprattutto in momenti straordinari come questo quindi eh bisogna opporre a momenti straordinari o a mete straordinarie attività straordinarie Emanuela meraviglia buongiorno ciao Gian Antonio allora noi ci stiamo sentiti ieri e quindi molte delle cose sono importanti ringraziamenti eccetera ovviamente già fatti ieri vi ripeto anche oggi due cose la prima è che c'è una mia classe collegata ed è io sono contenta di questo della di tutte le cose che tu dici sono tante sono sono una più di mille come ti ho detto anche ieri e poi alla fine è quasi la cosa più difficile per noi è quella di starte dietro perché sei talmente vulcanico hai talmente tante cose come diciamo il tuo progetto porta avanti talmente tante piste di lavoro che noi fatichiamo un po' a stare dietro a tutte le opportunità che ci dai io credo che la cosa che mi interessa di più in questo momento è che i ragazzi della mia della mia sede che sono collegati capiscano che hanno intrapreso un percorso che li porterà ad esercitare una professione che dovrà che dovrà crescere che dovrà diventare sempre più sfidante in cui loro non dovranno mai smettere di imparare che quello che loro stanno imparando oggi non è che la base di un percorso che li sfiderà in continuazione li sfiderà per l'innovazione che ci sarà in termini scientifici in termini tecnici di prodotto di processo quindi loro devono capire che secondo me questa è la cosa importante che loro capiscano oggi che attraverso di te appunto che rappresenti il mondo del lavoro l'industria e il settore della cosmetica diciamo nella più alta accezione ecco loro capiscono che non stanno facendo un lavoro nel quale possono agire così nella loro così nelle loro competenze quella che noi chiamiamo la comfort zone no cioè quel dire io ho imparato a fare quel tot sto lì tranquillo con quel tot che so fare nella mia impresina nella mia piccola impresa eccetera e loro devono rendersi conto che c'è un mondo fuori dal dai muri del CFP c'è un mondo che prosegue che va avanti che accetta delle sfide e che evolve quindi questa per me è una cosa fondamentale la seconda cosa invece è una domanda per i ragazzi che sono lì presenti con te la faccio a loro e mi fa piacere anche che l'ascoltino i miei i miei allievi ed è questa riguarda un po' il tema dell'orientamento cioè ritorniamo indietro a quando loro hanno fatto la scelta in terza media quando loro hanno fatto la scelta di andare verso la formazione professionale i loro insegnanti della scuola media li hanno aiutati che cosa gli hanno detto cioè qual'era alla base della loro scelta che loro hanno fatto a tredici anni chi li ha aiutati chi ha dato delle informazioni qual'è il ruolo che ha svolto la loro scuola media perché io immagino sicuramente ci sarà stato un ruolo importante della famiglia che però sceglie anche sulle sue conoscenze cioè in fondo la famiglia non è tenuta ad essere soggetto attivo dell'orientamento perché dovrebbe come dire non nel suo lavoro non nel suo mestiere e quindi volevo capire appunto se loro ritornano con la mente alla loro terza media che ruolo hanno avuto gli insegnanti della scuola media e poi chi ha agito diciamo in maniera più forte rispetto alla loro scelta grazie Alessia inizia tu sì allora a me sinceramente mi hanno aiutato poco perché comunque come ho detto prima mi hanno comunque indicato verso un istituto tecnico e non a proseguire comunque il mio sogno loro lo sapevano che comunque diventare un istitista per me era un sogno solo che loro ovviamente mi hanno consigliato un'altra cosa però io ho seguito i miei sogni grazie ai miei genitori che comunque volevano la mia felicità penso un po' tutti i genitori dei loro figli e io ho seguito comunque la mia scelta e comunque i miei genitori quindi ti ritenevano troppo brava per fare una scuola professionale cioè che eri una brava studente e quindi risprecata per la scuola professionale qualcosa del genere sì 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 sicuramente magari non bravissima ancora per il liceo ma non così male per andare a una professionale così sì 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 liceo no no liceo non eri bravissima per il liceo però non è neanche così scarsa per una professionale così esatto sì va bene Artia come ho detto prima a me mi hanno indirizzato subito sulla scuola professionale e comunque era un mio sogno fin da piccolo mi piaceva vedere la figura del parrucchiere e i miei professori anche loro mi hanno detto di fare questa scuola qua una scuola di parrucchieri e di sicuro a casa mi hanno aiutato mi hanno detto di seguire i miei desideri di seguire quello che voglio fare a scuola invece di sicuro secondo me non mi ritenevano troppo bravo per fare altre scuole come istituti come licei e mi sono sentito un po' disorientato soprattutto perché ti sei sentito che poi alla fine ti hanno fatto ti hanno ti hanno secondato la scelta ma come per dire ce lo siamo tolti sì eh l'abbiamo buttato lì sì o no sì sì invece la mia esperienza diciamo di quella che ho passato io dalla mia parte dell'est della Serbia sono siamo le persone molto più dobbiamo essere molto decisi sia nella vita che nelle scelte ovviamente a me hanno sempre dato che sono sempre stata portata per essere la acconciatrice la parrucchiera perché voglio arrivare ai miei sogni per diventare la famosa invece mi hanno sostenuto proprio sia i genitori sia la famiglia tutta che tutti i miei professori che io potevo parlare liberalmente con loro e mi hanno proprio sostenuto e mi dicevano tu vai lì perché è la possibilità sia di andare a Milano che è seguire questa diciamo procedere il tuo percorso ma questo ti è successo in Serbia? in Serbia perché ho fatto le scuole medie in Serbia quindi ho dovuto procedere continuare con la scuola superiore qui in Italia e quindi sono molto fiera sia dei genitori che tutta la mia parte che mi hanno sostenuto di arrivare ai miei sogni anzi che dovrei arrivare ancora se c'è qualcuno dei tuoi ragazzi che vuole commentare anche Emanuela farli pure intervenire questo non non lo so posso fare un commento io soprattutto rispetto alla prima alla prima risposta mi viene solo da dire allucinante non ho altro da dire rispetto chiaramente non rispetto alla ragazza ma rispetto all'insegnante quella che gli ha detto sei troppo brava per la scuola professionale devi fare il tecnico quindi questa stratificazione brava per il liceo ma c'è appunto infatti ovviamente allucinante è riferito all'insegnante non alla ragazza che ha fatto benissimo a seguire la propria scelta volevo sulle parole che hai detto tu prima rispetto ai tuoi ragazzi e rispetto anche al futuro di questa di questa professione io vedo in maniera nitida nitida che un giorno quando ci sarà veramente un governo illuminato ci sarà in ogni governo del mondo un ministero del benessere ok di sicuro è che la professione centrale questa quella professione centrale sarà per l'umanità l'operatore della bellezza e benessere questi non sono fantascienza ma è scienza pura perché già ci sono delle testimonianze di oltre 600 anni fa giacenti nelle nostre università che ricordo che noi abbiamo l'università più antiche del mondo del 1088 quella di di Bologna e abbiamo 10 università della cosmetica fra cui Siena che è la più diciamo antica a 770 anni eccetera ci sono dimostrazioni concrete che dicono che questa professione dell'operatore della bellezza e del benessere è una professione equiparabile a quella medica con la differenza che è una medicina olistica e quindi che non ha effetti collaterali e quindi fa solamente il bene dell'umanità e quindi rispetto a dove sta andando il mondo che sta andando tutto in un orientamento degenerativo di cui oggi noi ce ne stiamo accorgendo e stiamo tutti cercando con la sostenibilità con la green economy di correre ripari nella realtà servirà quello che io chiamo la purpose economy quindi un'economia che ha un significato e sicuramente l'economia degli operatori della bellezza e del benessere avrà un enorme significato nella vita e nel futuro dell'umanità perché sarà l'unica professione che riuscirà senza effetti collaterali a sostenere il cammino dell'uomo giorno per giorno che come ben sappiamo è ogni giorno un cammino più ricco di sfide di difficoltà e chiaramente di ostacoli nonostante l'evoluzione della scienza e della tecnologia quindi è un ruolo centrale prima o poi usciremo da questo terpore e vedremo una ascesa verticale di questa professione Rossella da da Lepido Rocco è proprio una maratona quella che è iniziata questa gara di corsa e speriamo alla fine di poter annunciare ecco la vittoria la vittoria di questi ragazzi che scelgono la scuola professionale nonostante tutto e tutti perché abbiamo appena sentito i ragazzi che non sono stati proprio incoraggiati nella loro scelta noi spesso troviamo anche molto le famiglie ad ostacolare le scelte dei ragazzi perché la ragazza prima ha detto la mia famiglia ha scelto vorrebbe solo il meglio per me venermi felice a volte noi genitori abbiamo la presunzione invece di conoscere ciò che potrà rendere felici i ragazzi perché ignoriamo talvolta le opportunità del settore e questo è un settore che ha grandi opportunità e l'unico che si rivolge è una persona sana che necessita solo di restare in salute e nel benessere pertanto sicuramente le famiglie devono essere coinvolte in questa partecipazione anche perché vediamo i ragazzi stessi quando vengono valorizzati e viene a loro illustratta le grandi opportunità del settore e vengono investiti anche di responsabilità in prima persona danno il meglio di loro ho partecipato a un paio dei precedenti time mind con un corso del settore del benessere un primo anno in particolare e da parte loro sentire che si parlava di loro per loro le ha sicuramente valorizzate e rese orgogliose di far parte di questo percorso il liceo della bellezza questo percorso che vuole un po' ambire ovviamente a un percorso di istruzione che attualmente viene riconosciuto come il più elevato della scuola secondaria ma bisogna capire il elevato rispetto a che cosa perché ogni percorso ovviamente ha la sua dignità e secondare l'ottano una domanda pertanto dottor Gian Antonio le famiglie secondo lei in che modo potremo riuscire a coinvolgerle di più insieme all'orientamento grazie dell'opportunità che dà le scuole agli operatori di sentirci parte di una famiglia con uno scopo ripeto comune che è quello di valorizzare un settore che viene riconosciuto dal singolo sempre come un settore importante perché ciascuna di noi cerca di la propria persona però poi quando si tratta di affermare in pubblico ci nascondiamo quasi con timore che possa essere una vanità cosa invece che riguarda un benessere psicofisico che è proprio dell'operatore grazie innanzitutto grazie grazie confermo sì questa è una maratona ma un po' come la vita la vita io dico sempre un viaggio non è una destinazione chi pensa di arrivare da qualche parte si accorge solamente io ho avuto la fortuna di vivere a fianco di mio padre e lavorare a fianco di mio padre tantissimi anni oggi lui è ancora un attivo 87enne e anche a fianco di mia madre che è una attiva 81enne e ho capito che la vita è un viaggio e non è una destinazione così come il nostro percorso è un viaggio continuo io non a caso come avete visto in questi incontri ho lasciato l'aspetto il capitolo 5 delle famiglie volutamente in stand by perché perché è l'argomento che è quello decisivo ed è quello che diciamo fra tutti è il più complesso e mi sta più a cuore allora siccome è quello che necessita anche degli interventi abbastanza radicali ho voluto prima far sì che voi mi poteste conoscere poteste praticare delle diciamo delle esperienze delle conoscenze delle applicazioni perché su questi temi sono poi abbastanza rigido ok sul tema della famiglia perché non impatta solamente su quello che è la nostra la nostra realtà ma non so se avete diciamo letto i giornali io li leggo ormai non più da oltre 12 anni ma seleziono e mi faccio pervenire solo le notizie che mi interessano a proposito di famiglie ormai è all'ordine del giorno un padre una madre trucidati quotidianamente no dai propri figli eccetera è chiaro che è uno spettacolo mediatico che fa bene ai giornali che arricchisce però nella realtà io ho tanti ragazzi e tanti collaboratori all'interno del gruppo e frequento veramente centinaia e centinaia dei miei collaboratori e migliaia e migliaia dei miei clienti e consulenti e tutte le loro famiglie e quindi osservo insieme anche agli osservatori antropologici psicologici pedagogici universitari quello che che è successo quello che succede bene oggi noi abbiamo una situazione mondiale che ci dice che l'80% dell'umanità è in post traumatic stress disorder cioè è l'impatto che ha avuto questa che sta avendo questa pandemia ha creato un deragliamento nell'assetto di oltre l'80% dell'umanità questo vuol dire che è vero che ha un impatto fortissimo ma è anche vero che c'è stata una contrapposizione fragilissima da parte da parte delle famiglie e quindi a cascata da parte dei ragazzi basti anche pensare che abbiamo il 20% dell'umanità quindi parliamo solo in Italia dell'ultimo dato che ho ricevuto dall'osservatorio e del 15 aprile parliamo di 12 milioni di persone che andrebbero ricoverate quindi si parla di tutto quello che la pandemia sta portando a livello fisico nessuno parla del grande disastro che la pandemia sta portando a livello psicologico a livello comportamentale cosa voglio dire con tutto questo che le famiglie hanno grandi responsabilità su tantissimi fronti e che la famiglia e quindi in qualche modo ha ormai da tanto tempo come posso dire rimesso a tutti voi docenti operatori dirigenti la totale formazione dei propri ragazzi sia da un punto di vista del saper essere che dal punto di vista del sapere e per voi operatori delle scuole professionali anche del saper fare questo è impossibile da praticare perché i ruoli della famiglia sono dei ruoli fondanti che addirittura nascono per la scienza nel preconcepimento durante il concepimento nei primi due anni di vita ancora più forti quindi verso le famiglie bisogna riuscire a fare dei discorsi che siano non solo attinenti a medicare il più possibile il danno fatto in questa generazione ma nel cercare di infondere dei principi che poi possono essere anche questi di comportamenti transgenerazionali e rivalutare i valori fondanti dell'umanità dell'educazione civica che purtroppo si sono persi quindi lì c'è un lavoro veramente grande da fare dove ci vuole l'aiuto veramente di tutti anche dei ragazzi perché molto spesso sono i ragazzi che fanno da tutor ai loro genitori questo credo che voi l'abbiate visto non credo di essere diciamo di dirvi qualcosa di nuovo questo da una parte è aberrante dall'altra parte è quello della realtà per cui per poter affrontare questo scenario con le famiglie ho bisogno che voi facciate un piccolo step in più insieme ai ragazzi quindi rafforzarci noi perché il tema delle famiglie è un tema veramente molto molto delicato e molto complesso che io ho già elaborato ma che per affrontarlo occorre affrontarlo con neuroni ginnici e muscoli molto forti e sangue molto freddo erica pellegrino buongiorno a tutti allora io volevo fare un intervento su ciò che mi ha colpito molto di questo percorso di cose ne sono state dette tante le condivido dai ragazzi indirizzati alla formazione perché sembra non siano in grado di fare altro a così a problemi un po' di sistema non poter uscire con un diploma avere percorsi più brevi però vorrei diciamo portare l'attenzione su questo ciò che a me ha colpito molto di questo percorso per come ho potuto conoscerlo fino ad oggi è il fatto che all'interno di un percorso educativo ci sia una grande attenzione al discorso degli spazi quindi a tutto quello che è lo spazio epigenetico al mettere i ragazzi in un ambiente bello quindi pensate a questo ragazzi che vengono vissuti dagli altri come scarti tante volte mi sono sentita riferire beh o dire anche da docenti beh non sanno far niente possono venire a fare la formazione professionale come se imparare un mestiere non bisogna saver delle abilità si ritrovano in ambienti invece che valorizzano la bellezza quindi ragazzi scatti in ambienti belli che generalmente l'ambiente bello è un ambiente dedicato e destinato a persone di un certo valore questa è la cosa che mi ha che mi ha profondamente colpita mi piace molto di questo percorso e anche pensare alle tecnologie innovative che grazie al percorso ho imparato a conoscere sto conoscendo dai totem con le frequenze di fibonacci che possono essere inserite all'interno della scuola a quello che è il lettino armonico di cui mi è stato un po' presentato l'altro giorno in un lavoro con Alberto la sperimentazione che se ne sta facendo e i risultati ottenuti alla decorazione degli ambienti quando entrai in FP qualche anno fa ma lavoravo in un altro centro entrai per una collaborazione mi ricordo che mi colpì subito la bellezza con cui erano state decorate le pareti del centro e io credo che questo sia un qualcosa che come ha colpito me mi ha fatto star bene questa mi ha trasmesso proprio armonia può trasmettere armonia alle famiglie e tornando sul discorso appunto un po' delle famiglie o dello stigma sociale che così che circonda la formazione professionale pensate a come può colpire le persone possono essere gli orientatori della scuola media i ragazzi o le famiglie se ha un'idea che hanno un po' distorta di quella che è la formazione non solo del settore benessere ma in generale entrano invece in ambienti belli accoglienti ed oltretutto possiamo mostrargli tecnologie collaborazioni di un livello veramente alto ultima cosa Gian Antonio io ho interagito poco sui social cercherò di scrivere qualcosa in più per quanto mi riguarda credo che invece quello anche sia un grande sforzo da parte tua che sia stato magari una mancanza di tempo noi lavorando nei centri credimi un po' come voi che lavorate nell'ambito produttivo siamo veramente presissimi di tante cose affrontiamo problemi quotidianamente di ogni tipo e alcune volte non è cattiva volontà o non apprezzamento dei contenuti dello sforzo e dello strumento ma è poco tempo per dedicarci attenzione infatti grazie proprio a te al percorso grazie anche ad Alberto che mi sollecita e mi mi tiene sul pezzo per esempio io sto dedicando tempo a questo progetto che probabilmente fossi sola non riuscirai a ritagliarmi perché ho sempre alcune cose che sembrano essere più urgenti e grazie l'ho già detto l'altra volta l'hanno detto tutti prima di me appunto la mia riflessione che mi piaceva condividere con tutti i presenti che vedo qui insieme a me proprio questa attenzione alla bellezza non solo la bellezza fisica dello spirito ma la bellezza dell'ambiente in cui viviamo i nostri ragazzi lo meritano meritano di vivere in centri dove passano otto ore al giorno sette ore al giorno belli belli e dedicati a loro a loro che prima erano sono arrivati noi come degli scarti ok su cui fare un investimento relativo ma si fai tre anni diventa parrucchiere e va bene così invece fargli vedere una via che è una via differente che può partire da qui ma andare molto più avanti nella professione grazie Erika aggiungerei associerei più che aggiungerei associerei la parola dignità io credo che nella in quella nell'osservatorio nel mio osservatorio della formazione professionale ho visto un po' tutti che hanno messo in secondo piano la propria dignità nella sentirsi magari scuole di serie B formatori di serie B e studenti di serie B e poi accettare diciamo di essere trattati come tali dalle aziende in alternanza dalle famiglie eccetera io credo che se noi con il fare e il fare bene eleviamo il nostro sapere il nostro saperesse il nostro saper fare eleveremo di conseguenza anche la nostra dignità senza scadere chiaramente nell'arroganza perché il pericolo è l'elevazione della dignità e poi scadere invece nell'arroganza però pretendere che poi ci sia un rispetto di quello che è il nostro fare per cui io sono abituato a fare e a dimostrare nel mio piccolo tutto quello che dico è perché poi l'ho già fatto e l'ho già sperimentato e l'ho già dimostrato io credo che anche il vostro rapporto con le famiglie come lo è con le imprese è un rapporto molto spesso di sudditanza che deve essere controvertito così come il rapporto con le imprese in alternanza così come il rapporto con i disorientatori cioè noi dobbiamo acquisire una maggiore dignità della nostra identità e di conseguenza le persone così si comporteranno nei nostri confronti cioè automaticamente senza parlare e senza bisogno di esercitare autorità ma la nostra autorevolezza parlerà per noi però per fare questo bisogna inserire nella nostra quotidianità delle pratiche che oggi mancano e poi le cose magicamente avverranno da sole forse abbiamo lo spazio per una l'ultimo intervento chiude magari aiutandoci poi con una benedizione a preghiera suor Carmela che la vedevo era una dei visi che vedevo nel monitor che mi rassicurava vedere la sua vedevo la sua fronte ma ero rassicurato stavo bene ero rassicurato grazie intanto volevo davvero ringraziare perché da quando abbiamo attivato questo percorso un mese fa non mi ricordo veramente c'è stata una crescita anche di riflessione da parte nostra noi purtroppo non abbiamo neanche il rischio dei cattivi orientatori perché la nostra situazione in Puglia è talmente precaria che per poter avere un percorso formativo di estetista o di parrucchiere dobbiamo partecipare a una gara un bambino un avviso dobbiamo vincere questo percorso quindi dobbiamo entrare nella graduatoria dopodiché possiamo attivare il percorso quindi noi fino a venti giorni fa non sapevamo se il corso di estetista che avevamo programmato si sarebbe potuto effettuare o meno per cui anche per esempio andare a parlare con i presidi e convincerli ed educarli perché in questo caso si tratta di educarli a far capire ai ragazzi che questo percorso è un percorso ottimo buono per chi ha questa tendenza perché neanche si poteva fare perché non si sa oggi quello che avverrà domani e la nostra lotta adesso con la regione non solo noi nostra ma degli altri enti che lavorano nella formazione professionale è proprio questa cercare di arrivare a fare sistema e io penso che questo percorso che stiamo facendo con voi che veramente ritengo validissimo può anche rappresentare un punto di forza perché dimostrando che abbiamo una qualità un'eccellenza di formazione perché comunque abbiamo anche il confronto con con altre realtà del territorio italiano che questo percorso lo fanno in modo professionale ma perché noi siamo anche professionali ma voglio dire è un percorso che deve avere come diceva il professore prima una dignità non solo per rispetto dei ragazzi ma dignità proprio della della professione e quindi veramente vi ringrazio e purtroppo ripeto anche noi forse non siamo intervenuti a supporto però apprezziamo tantissimo i nostri alunni quelli che adesso stanno completando il terzo anno hanno seguito perché la tutor li ha messi in contatto non si sono visti ma comunque c'erano e vorremmo veramente poter continuare magari il nostro non può essere un supporto molto significativo perché ripeto non abbiamo quella sistematicità che basta una goccia nell'oceano però io penso che se riusciamo come come gruppo italiano a spingere sia verso il liceo della bellezza perché penso che sia un sogno che speriamo si possa realizzare ma anche a dare delle prove alla nostra regione che può dare sistematicità a questi percorsi perché loro non hanno impegnato nulla come fondi regionali utilizzano solo i pochi fondi del ministero quindi vuol dire che si tratta di un percorso per provincia per noi enti che siamo quindi veramente poco però noi vogliamo essere aiutati da voi per diventare come state facendo voi centri di eccellenza perché penso che dare questo segnale vuol dire anche dare alla regione quell'input sufficiente per dire facciamo questa diamo sistematicità diamo futuro non soltanto a chi veramente ci ci spende per i ragazzi perché abbiamo la stessa passione io vedo il professore che ha una passione grandissima noi abbiamo una passione non dico uguale ma abbiamo passione per i ragazzi e ci teniamo che questi ragazzi che poi alla fine in tutta Italia anche da noi sono gli scarti però sono scarti dalla loro lettura ma quando entrano da noi diventano sono delle gemme sono delle gemme sono delle gemme esatto grazie soccamela grazie vi ringrazio tutti tutti coloro che ci stanno seguendo ci avete seguito abbiamo stasera l'appuntamento su Rai Premium in seconda serata intorno alle 23.15 parlerà Diego Lalla Palma insieme a me di cosmetica umanistica il 26 maggio è il prossimo appuntamento per questo zoom tutti insieme dove vi porterò una novità esplosiva e avremo poi concluderemo l'appuntamento di questo primo semestre con l'ultimo momento insieme che sarà il 23.15 di giugno dove anche lì auspico di avere qualcosa di veramente importante da condividere oltre a ripassare insieme il momento del percorso come sempre Live Communication insieme ad Alberto Zambelli garantirà il seguimento l'affiancamento della messa a terra di tutto il progetto quindi vi esorto a stringere le relazioni affinché sia identificato chi di voi davvero fa parte di questo percorso di questo percorso attivo di questa sperimentazione io dal cuore ringrazio i ragazzi che mi hanno fatto una meravigliosa compagnia ringrazio l'Accademia BBA di Paderno Lugnano che si è dall'anno scorso messa a disposizione per essere per diventare il primo liceo della bellezza d'Italia e quindi ha messo a disposizione le dirigenze i docenti gli studenti energie assolutamente incondizionate quindi li voglio ringraziare ringrazio tutti voi per quello che già avete fatto fino ad oggi e per quello che farete colgo l'occasione anche per ringraziare tutto il team dei miei collaboratori che lavora alacremente dietro le quinte insieme a me e che avrò un giorno il piacere e l'onore di presentarvi voglio anche ringraziare la mia famiglia i miei figli che con tanta pazienza sostengono un papà che ha deciso diciamo di dedicarsi a chi diciamo ha avuto meno fortuna della nostra famiglia e quindi ieri mia figlia mi ha raccontato che ha pianto due ore a scuola perché non mi vedeva da una settimana e gli era venuto e quindi gli ho spiegato che e hanno capito che sto cercando di dedicarmi a chi è un po' meno fortunato però li ringrazio anche loro che che mi sostengono e non mi lasciano pesare non me le fanno pesare troppo con questo vi saluto vi abbraccio dal veramente dal profondo nel mio cuore vi ringrazio e vi do una rivederci alla prossima e ringrazio ripeto Alberto e Live Communication per tutto il lavoro che faranno insieme a voi da qui al prossimo appuntamento per tradurre in pratica tutto questo protocollo che ogni volta ripassiamo e approfondiamo a prestissimo e grazie ragazzi salutate i nostri saluto anche col cuore tutti i ragazzi che insieme i docenti ci hanno ci hanno seguito dalle classi dirigenti docenti a prestissimo 26 maggio e stasera con Diego alla palma